Un'inna ed è un corvo in pericolo. Il corvo è uno tra gli oceni più dirigenti. Gli esperimenti hanno dimostrato che la natura è in modo di contare, ma ne qualano genti, per esempio, piccoli e pericoli. Forza della sua intelligenza ha paura di nulla di nessuno, tant'è che pensate può diventare un nemico dell'acqua reale sul nostro mondo. Il corvo vive anche da noi nelle nostre montagne. A questa volta viene scambiato da una corlacchia, ma questo è un insulto al corvo in tutto il male. Mossa un'altra volta il becco, appunto il dito di Mounin. Questo colore è caratteristico del mio cartello. Stai con lo seduti, lui vedete che viene a curiosare. E allora salutiamo Mounin. Mounin.